maestro dopo pagani una bella riconoscenza nella sua seconda casa possiamo dire certamente e beh vi racconto questa cosa molto bella negli anni 60 anzi nel 1960 io fui scelto a napoli per il musical di michele galdieri nacque a settembre si stava insomma fra me e galdieri si stavano subito un rapporto di come padre e figlio e lui mi volle accompagnare un giorno a salerno per conoscere la mia famiglia e dopo salerno venimmo a fisciano e andammo a villa e c'era un panorama bellissimo ricetta guarda figlio mio che stanno mare verde senza fine vedi non c'è il mare però è un mare verde di bellezza di aria salubre e quindi io conobbi conobbi fisciano poi poi dopo c'è stato un tanto rapporto di di vita di insegnamenti a livello proprio di di umanità perché lui diceva sempre figlio mio tu devi camminare come i cavalli con i paraocci guarda avanti e non ti preoccupare non avere spicolature contro i nomi più grandi più piccoli canto io canto dopo tu sulle tavole ti devi far valere lasci lasciava immazzata e quindi per fare questo bisogna avere il corpo e lo spirito sano in te integro cioè la notte devi dormire non ho rubato non ho qualunato nessuno non mi sono fatto avanti a danni di qualcuno ho fatto sempre il mio dovere dal palcoscenico ho dato il mio cuore alla gente che viene ad ascoltare praticamente ecco e quindi dormirai tranquillo e poi devi essere un'atleta sappi di guardare capisci ma me e devi essere un'atleta perché un'atleta che va in campo se ore prima ha fatto il lazzaroncello in campo non rende quello che deve rendere questo sono state che sono state sempre gli insegnamenti di michele caldieri e io mi sono innamorato di questa terra io ho conosciuto il sindaco gaedano sessa che mi ha onorato della sua amicizia e stima un uomo di grande valore un uomo di grande passione per questa terra e poi con obbi quella sera che io veni qua con sessa non ricordo gli anni ma sicuramente più di venti anni fa perché inaugurò questa chiesa nuova e il comune qui e ci fu una un mio spettacolo lui volle portare tutta la compagnia cena e venne anche tommaso amabile c'era anche l'ingegnere pierdi mi ricordo che si fece l'alba tra ricordi belle che perché ho poi pazzicavo carpinetto dal dottore nato caldieri altro mio padre che mi ha indicato mi ha consigliato e quindi ricordo quella notte c'era anche il tommaso amabile un altro calanduomo un altro valente politico che oggi è assessore regionale e quindi poi conosci questo giovane sindaco un ragazzo una persona meravigliosa ricca di sentimenti perché lui ha capito se senza background senza passato non c'è futuro e quindi ha voluto questo mio concerto ed io con tutti i cuori lo faccio per la mia gente perché io adesso mi sento di fisciano mi sento di questa terra della valle dell'irno e dovrò portare avanti questo nome perché galdieri rocco galdieri michele galdieri e tanti altri uomini illustri che sono nato in questa terra giovanardi che c'è villa giovanardi insomma è una è una terra ricca di di storia e quindi io ringrazio il sindaco ringrazio il segretario del sindaco francesco della bella ringrazio i coordinatori del teatro l'assessore al ramo che sta curando questa rassegna il villaggio di babbo natale e quindi io l'ho rassicurato babbo natale stati tranquilli io verrò da te però viene anche tu da me qualche giorno prima dello spettacolo del 29 dicembre alle 20 e 30 nel palatenda di la villa comunale e quindi questi sono i ricordi a tanta commozione perché nel mio libro bruno venturini una voce che ha emozionato il mondo c'è un grosso capitolo dedicato a questa terra michele galdieri con tanti aneddoti quando io andavo via dei giornalisti a roma e andava a salutare il mio padrino il mio padre e lui dice figlio mi viene qua e mi ricordo che arrivavano un sacco di telefonate mi ricordo una volta che ha chiamato totò e la magnani per una cena a trastevere all'antica pesa lui ha detto ha detto antonio senti io ho mio figlio il piccolo non lo posso lasciare sulla casa ma porto pure a lui e così mi sono trovato a tavolo con la magnani totò mamma mia del carmine quindi ho vissuto una una tavola artistica forse prematura ma ma che mi ha aperto gli occhi a vedere l'arte grande che cosa significa caldiere era l'autore di monastro di santa chiara grande poeta rocco caldiere uno dei sommi con di giacomo e mattinata fiorentina e primavera svegliatevi bambine insomma e poi quest'uomo ha scritto napoli l'ha descritto l'amata come amato la terra la terra di fisciano è la terra dei caldieri è un mare senza senza fine quando mi portò qui caro sindaco negli anni sessanta da carpinedo vedremo questa vallata meravigliosa io ringrazio ancora di cuore il sindaco vincenzo sessa che come ho detto prima è un ragazzo di primo ordine che lo vedremo molto lontano perché chi ha sentimento nel cuore va sempre lontano è un cuore nobile un cuore che va avanti perché portavoce di una terra generosa che ha dato tanti talenti tanta arte tanta cultura sì c'è un'eccezione perché abbiamo un illustre cittadino che il maestro bruno venturini che si esibirà appunto il 29 dicembre qui a fisciano lo ringraziamo per questa data di questo suo concerto che ha voluto fortemente fare qui a fisciano noi come amministrazione siamo orgogliosi di avere un cittadino come il maestro venturini mi siamo contenti di questo di questo spettacolo e vorremmo ringraziare la cmp di tutta la famiglia d'aria che hanno permesso la realizzazione di questo grande evento che chiuderà la segna natalizia che abbiamo messo in campo come amministrazione comunale grazie